Ma io mi affido al giudizio di Giorgia Meloni, che ha detto che sono dieci anni che Renata non dice una cosa di destra. Io mi fido del giudizio della Meloni. Allora, Renata Polveni nasce segretario generale del sindacato della destra, poi ha una carriera politica molto importante, presidente della Regione Lazio e centrodestra, dalla parte di Alleanza Nazionale passa dalla parte di Forza Italia e adesso arriva a, ce lo dice lei, in perché. Prego, onorevole Polverini, sempre pronti a essere interrotti dal voto. Certo, certo. Intanto grazie e buonasera. Io penso che il mondo è cambiato ed è cambiata anche la politica. Non ci sono più le categorie, almeno per come la leggo io, della destra o della sinistra. Ormai si contrappongono due poli. Uno che combatte in un campo che è quello dei valori dell'Europa, le radici cristiane dell'Europa, che è attenta ai diritti, che comunque guarda all'interesse delle persone, ma nell'ambito comunque di un allargamento anche tra le persone stesse. C'è un mondo in movimento e c'è chi lavora perché queste persone arrivino sempre più vicine. E c'è un altro campo, che è quello della destra, che non è più la destra di prima, è una destra sovranista, una destra che guarda sicuramente all'interesse nazionale, ce lo ricordano tutti i giorni, ma che per quanto e per come la vedo io, non è più la destra nella quale io mi sono riconosciuta. Qualcuno, anzi oggi più di qualcuno, mi ha fatto questa domanda. Io ricordo che c'era la destra sociale, ricordo che la destra sociale si occupava di diritti, si occupava di lavoro, si occupava di politiche sociali. Cioè storace alemanno, i suoi riferimenti sono storace alemanno. Guardi, ci sono state persone molto più autorevoli da storace alemanno. Per esempio, che era uno storico della destra sociale, non è che dobbiamo arrivare ad alemanno. Anche nelle destra ci sono state persone che hanno avuto una testa, non è che ci stanno solo a sinistra. C'erano persone che ci hanno indotto a credere in alcuni valori che oggi questa destra, a mio avviso, non dico che è sbagliata, ma non è più in grado di rappresentarli. E comunque io non mi ci sento più rappresentata. Ho fatto una vita di battaglie, in questi ultimi mesi ho votato sostanzialmente quasi sempre in dissenso dal gruppo, ho votato l'accordo sul MES che il gruppo di Forza Italia, pur inserita nel Partito Popolare Europeo, non ha voluto votare, ho votato la legge ZAN sull'omofobia, ho votato nella scorsa legislatura l'Oiusculture, ho votato in questa legislatura, in questa legislatura l'Oiusculture civile, e mi dico se mi posso riconoscere con una Forza Italia che non è più in grado di rappresentare queste cose. Allora, Evelina Cristellina è arrivata.